che meraviglia è in assoluto questo il mio gioco preferito quindi cara francesca con la k e jody cecchetto sono molto felice che siate lì e io qui ve lo dico subito allora poche regole ma semplici allora farò una domanda le poltroni cominceranno a girare quando si fermeranno voi dovrete slacciare le cinture di sicurezza prendere la palla quella lì davanti a voi e darmi la risposta ok chiarissimo è chiaro chiarissimo ogni risposta è un punto vince chi arriva a tre punti legatevi bene ma c'è un problema la sedia troppo comoda mi sto per addormentare ma mi sa che fra poco cambia la storia io penso che cambierà jody se fossi te starei un po concentrato ok se qualcuno di voi sbaglia la risposta la risposta passa un altro ok ok sono domande semplici ragazzi mi raccomando la pallina è pronti partiamo era relativo in un successo di tiziano ferro via è un bel giro Quanto giro? 20 secondi Vai Ok Oddio Mamma mia Geneticamente Fermo, fermi Risposta Rosso Risposta esatta 1 a 0 per Francesca Brava Brava Francesca 1 a 0 per te e anche per il tuo concorrente Amza Perché ricordatevi che i nostri concorrenti Se voi vincete Chiunque mi capasano la scendia musicale Cioè Jody Siete una bellissima coppia Francesca sei geneticamente modificata Molto bene Volevo dirvi anche questo Se non vi sentite bene Jody e Francesca Dite Rosso In questo caso però Era sbagliato No In questo caso era sbagliato Da adesso in poi Ok Ha ragione anche lui Dite rosso Da adesso in poi Avrei voluto dire rosso Avrei voluto dire rosso Hai ragione Jody Mamma mia Allora Rosso e fate così 1 a 0 per Francesca E quindi Amza Però Jody ti puoi riprendere immediatamente Con la seconda domanda Vediamo Fra i due Il terzo gode Via Dormire Salutare Autostop Ma devi farla girare più veloce Stannuto Camminare Nuotare Nuotare Sciale Spray Maggio Litiganti Ma Al culo Ma Non sembra Che Romani Litiganti E' giusto Jody Però bravi 2 a 0 Mi sento bene Gioco C'ero Ma te l'avevo presa Mamma mia Oh Francesca Che ti credo Te l'ho litiganti Rivido felino Direi con la K E' già 2 a 0 Qui di Amza Se Francesca Vi rispondesse bene Anche a questa Terza domanda Tu passeresti Alla scedia musicale Ma E tu Però Non è detto Non è detto Jody Tu Dammi qualche consiglio Più velocità Jody Più velocità Ti succhia le ruote Lei un po' Eh Diciamolo Va bene Allora Secondo Le regole del galateo Quando si apparecchia la tavola Da che parte del piatto Si pone il coltello Zitto Miccio Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, oddio che pezza Oddio che pezza Lui è morto Ho piucchiato la testa Lasciatemi stare Non lo vedete Non sono più normale Lui è storbito, totale Oddio che pezza Francesca, scasca, scasca A destra Sì, è un claim per Anza Mi dispiace Milai Tu sei eliminata Anza passi ad ascendia musicale Mamma mia Che giocatrice Francesca, scasca, scasca, scasca Grazie a tutti